Ah, ed eccoci qua dopo questa conclusione di questo ennesimo lunedì che sta per giungersi al termine con la solita routine, i soliti problemi, fammi indovinare, anche oggi è l'inizio di un'altra settimana di merda dove questa giornata è successo di tutto di più, magari è andata male a scuola, ha preso un brutto voto e a casa i tuoi genitori ti hanno fatto il culo, oppure non lo so, il lavoro è andato malissimo, il tuo capo ti ha trattato di merda e non ne puoi più, non vedresti l'ora di licenziarti domani, eppure ogni lunedì si ripete la stessa situazione e allora capite che c'è qualcosa che non va di mezzo, forse non è l'unico vostro lunedì ma è quello di tante altre persone messe come te io per fortuna da tre anni a questa parte non lo è più